Calcio-mercato Milan, sfuma, il primo obiettivo del club. Il difensore ha scelto la Roma. Dopo la splendida stagione dello scorso anno, il Milan ha faticato in questo campionato per trovare la continuità che poteva regalargli qualche soddisfazione maggiore. Nelle ultime settimane i tifosi rossoneri hanno inoltre dovuto affrontare l'addio di Ibrahimović e quelli di Maldini e Massara. È tempo quindi ora di ricostruirsi a livello societario prima e sul mercato poi. Il Milan ha la necessità di sferrare colpi importanti nella sessione estiva di calcio-mercato per tornare competitivo il prossimo anno in ottica scudetto e non solo. Nel mentre però è sfumato il primo obiettivo di mercato del club. Si tratta di Indica, difensore classe 99 dell'Eintracht Francoforte, nel mirino del Milan da tempo. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore è vicinissimo a vestire la maglia della Roma. Per lui è pronto un contratto quinquennale su una base di 4 milioni di euro a stagione. Adesso, su chi dovrà puntare il Milan?